Il gruppo Fiat Chrysler ha scelto Marina di Camerota per girare lo spot sulla nuova Spider che lancerà ufficialmente nel mercato britannico e americano. In questi giorni la troupe cinematografica ha girato le spettacolari immagini lungo la spiaggia del Mingardo, individuata proprio dalla produzione come la location ideale per la pubblicità dell'auto. La strada è rimasta off-limits per diverso tempo. Lungo l'arteria si sono create lunghe code di automobili, infila anche molti curiosi, frutto degli accordi tra la Mazda e il gruppo Fiat Chrysler, la nuova Spider è l'erede della mitica 124 Sport Spider degli anni 60. L'automobile verrà costruita in parte in Giappone sul pianale della nuova MX-5. La sua uscita è prevista in primavera. Soddisfazione per la decisione della produzione di girare lo spot a Marina di Camerota è stata espressa dal primo cittadino Antonio Romano.